In questa domenica la parola di Dio ci fa entrare nei sentimenti profondi di Gesù, perché è giunta la sua ora. Ci vengono presentati i greci che vogliono vedere il Signore. E la conoscenza del Signore non è tanto una conoscenza esteriore che può soddisfare una legittima curiosità, ne avevano sentito parlare, ma è questa esigenza interiore che è emozione dello spirito che fa sì che si conosce Cristo, che si rivela come il Salvatore dell'uomo. Gesù vive la sua ora. Sa quando viene la sua ora? A Maria a Cana disse non è ancora giunta la mia ora, ora invece è giunta la sua ora. E la sua ora è l'ora della passione. E l'ora della passione addirittura la chiama in maniera veramente originale. il figlio è glorificato, cioè a dire viene glorificato nella passione. E la sua ora sarà quando scocca quel momento particolare sul Calvario in cui si rivela tutto l'amore del padre per l'umanità nel cuore del figlio nel quale vive la sua ora, che è l'ora più profonda dell'esperienza dell'amore di Dio per l'uomo. Anche noi siamo chiamati a vivere la nostra ora e fare di ogni ora un'ora. L'ora della glorificazione, l'ora dell'offerta, l'ora dell'unione con Cristo che offre se stesso per la salvezza dei fratelli, perché sarà quell'ora che non passa, sarà l'ora in cui saremo glorificati, sarà l'ora in cui ci aspetta il Signore per poter dimostrare l'amore. Come Gesù ci insegna di affrontare la sua ora con l'entusiasmo e la gioia perché Lui lo volle, così anche noi viviamo la nostra ora quotidiana nel servizio totale dei fratelli, nell'amore completo di tutti, perché anche noi possiamo essere glorificati nell'ora che viviamo nell'amore. Buona domenica.